La pizza di Napoli, l'arte del pizzaiolo napoletano, finalmente bene immateriale, patrimonio dell'umanità unesco. Un riconoscimento storico grazie ai pizzaioli napoletani che vivono a Napoli, operano a Napoli e in tutto il mondo, grazie a tutti quelli che hanno firmato per questa petizione il segno della potenza di Napoli attraverso la sua arte, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue radici, la sua creatività, la sua fantasia. Una grande vittoria per Napoli e per la pizza napoletana.